good morning si qui sono praticamente alle 10 e come dico in questi casi certo non una mattina prestissima una mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's me thirties tuta 22 inizia manda in e paul sa clear clear morning this moment very stir now anche con vento soft wind molto piacevole la pleia sant and se venti e te fare in eterno 26 se il suo semplicemente it's that day really 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 soft like miss days and disappear and also over because it seems more a summer climate and spring climate altra parte stanno andando verso giugno questo è anche normale appunto perché ormai siamo quasi verso l'estate a se ricorda dei video tu sei da noi fai do it but as always if i'll do it is separate from this so in case you are interested eyes open anyway as he and you will just see from the window today you can't see anything because in these days you can see only the green roller shooter because as I also explained yesterday in these days in the summer we mettiamo in most show the green roller shooter because per far passare un po di area in più visto che estate fa caldo rispetto alla tenda alla curtain e quindi per questo credo che in estate la vedrete spesso di più la green roller shooter ha detto che anche questa che io mi fermerò un certo punto non è detto il continuo che le porta a un anno dal report forse vedremo non lo so comunque think that it is after the new temperature potrebbe anche salire sicuramente si manterrà sullo stesso livello comunque vedremo but the really important thing with this atmosphere is that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way ovviamente qui ho le long way sempre qualche ora meno rispetto a voi intendo soprattutto gli amici americani perché ma sapete abbiamo un orario completamente diverso bene non ci possiamo lamentare in questo mese di maggio abbiamo avuto quasi sempre those beautiful blue skies and golden sunshine speriamo di continuare così anche domani con questo trend che abbiamo già due giorni se non erro ma il pomeriggio in genere in questi giorni comunque verso diciamo le 5 le 6 si annuvola quindi spero che non faccia anche oggi così può essere se vedremo magari mi aggiornerò o nei reporti domani in descrizione per cui so from the mythical window with the orange red blue new waterproof theme behind me these times and it's green in roller shooter near me and finally from my mythical keyboard yamani gx 640 ipg ipg 625 eva great day im all the people follow of the chanderivorsi un saluto davvero a tutti and also i hope you will have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco bronte come sempre non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo dovesse essere brutto alle vostre parti rispetto a qui non che non ci consoliamo sempre anzi anche quando il tempo è bello ma è quanto mi riguarda ancora di più quando il tempo è brutto d'altra parte le due parole consolazione e colazione in italiano fanno anche rima I'll see you in the video tools if I'll do it or tomorrow I'll see you in the video